Non essendo del tutto soddisfatto per ciò che gli aveva detto Monsieur d'Honorpois, Bloch si avvicinò all'archivista e gli chiese se non si incontrava qualche volta da Madame de Ville Parisi, Monsieur Dupatie de Clam ou Monsieur Joseph Reinhard. L'archivista non rispose. Era nazionalista. Prediceva continuamente alla Marchesa che sarebbe presto scoppiata una guerra sociale e avrebbe dovuto essere più prudente nella scelta delle sue amicizie. Si chiese se Bloch non fosse per caso un emissario segreto del sindacato venuto per fornire informazioni e andò immediatamente a riferire alla Marchesa le domande che Bloch gli aveva fatto. Lei ritenne che era perlomeno maleducato e forse pericoloso per la posizione di Monsieur d'Honorpois. Infine voleva dare soddisfazione all'archivista, la sola persona che le ispirasse qualche timore e dal quale veniva indottrinata, ma senza molto successo. Ogni mattina lui le leggeva l'articolo di Monsieur Judet nel Petit Journal. Volle dunque avvertire Bloch che non doveva più tornare e trovò facilmente nel suo repertorio mondano la messa in scena con la quale una gran dama mette qualcuno alla porta, messa in scena che non comporta necessariamente il dito alzato e occhi fiammeggianti, come solitamente ci si immagina. Siccome Bloch le si avvicinava per salutarla, lei, affondata nella sua ampia poltrona, sembrò emergere a fatica da una specie di vaga sonnolenza. Il suo sguardo appannato non lasciò sfuggire che il debole e seducente bagliore di una perla. I saluti di Bloch, facendo affiorare sul volto della Marchesa un languido e pallido sorriso, non le strapparono a una sola parola e lei non gli tese la mano. Questa scena portò Bloch al colmo dello stupore, ma siccome intorno a lui una cerchia di persone lo stava osservando, pensò che non potesse prolungarsi senza inconvenienti per sé e, per costringere la Marchesa a decidersi, lui stesso le tese la mano. Madame de Ville Parisini fu offesa, ma, tenendoci a dare una soddisfazione immediata all'archivista e al clan anti-Dreyfusardo, ma, volendo lasciarsi aperto uno spiraglio per l'avvenire, si limitò ad abbassare le palpebre e socchiudere gli occhi. «Credo che dorma», disse Bloch all'archivista, che, sentendosi sostenuto dalla Marchesa, prese un'aria indignata. Poi Bloch alla fine gridò «Buongiorno, madame!». La Marchesa abbozzò un leggero movimento di labbra, come una moribonda che voglia dire qualcosa, ma il cui sguardo non riconosca già più nessuno. Poi si volse, traboccante di una ritrovata vitalità, verso il Marchese d'Argancourt, mentre Bloch si allontanava, convinto che fosse rammollita. Pieno di curiosità e deciso a chiarire un incidente così strano, tornò a trovarla qualche giorno dopo. Lei lo ricevette molto calorosamente, perché era una donna di cuore, perché l'archivista non c'era, perché ci teneva alla commedia buffa che Bloch doveva far recitare in casa sua, e infine perché aveva sostenuto la parte della grandama come desiderava, universalmente ammirata e commentata, la sera stessa, in vari salotti, ma secondo una versione che non aveva già più alcun rapporto con la verità. Parlavate di Les Septes Princesse, duchessa, sapete? «Oh Dio, non è che io mi senta per questo più orgoglioso che l'autore di quella, come potrei definirla, di quella roba, è un mio compatriota?» disse Monsieur d'Argancourt, con un'ironia mista alla soddisfazione di conoscere meglio degli altri l'autore di un'opera di cui si era parlato. «Sì, è un belga», aggiunse. «Veramente? Ma no, non vi accusiamo di essere responsabile di quello che c'è scritto nelle Septes Princesse. Fortunatamente per voi e per i vostri connazionali non assomigliate affatto all'autore di questa scemenza. Conosco dei belgi simpaticissimi, voi, il vostro re che è un po' timido ma pieno di spirito, i miei cugini Ligne e molti altri, ma fortunatamente nessuno di voi parla lo stesso linguaggio dell'autore delle Septes Princesse. Del resto, se volete che ve lo dica, ne abbiamo parlato anche troppo. È una cosa inesistente. È gente che vuole apparire oscura e all'occorrenza non teme il ridicolo pur di nascondere la mancanza di idee. «Se ci fosse sotto qualcosa vi direi che non ho paura di certe originalità», aggiunse in tono serio. «Però che contengano delle idee!» Non so se avete visto il dramma di Borrelli. «Alcuni ne sono rimasti scossi. Io, anche a costo di venire lapidata», dichiarò senza pensare che non correva alcun rischio del genere, «confesso che l'ho trovato estremamente interessante. Malesepe Francese! È vero che una di loro ha un debole per mio nipote, ma non posso spingere i sentimenti di famiglia». La duchessa si interruppe di colpo, perché entrava la viscontessa di Marsant, la madre di Robert. Madame de Marsant era considerata nel Faubourg Saint-Germain come un essere superiore, di una bontà e rassegnazione angelica. Almeno così mi avevano detto, e non avevo ragioni particolari per esserne sorpreso, dato che in quel momento non sapevo ancora che fosse la sorella del duca di Germont. Ma anche più tardi, ho sempre provato un certo stupore, ogni volta che mi capitava di vedere in quella società, donne malinconiche, pure, sacrificate, venerate come le ideali sante che si vedono nelle vetrate, fiorite sullo stesso albero genealogico di fratelli brutali, debosciati e vili. Fratelli e sorelle, quando sono così somiglianti di viso, come erano il duca di Germont e Madame de Marsant, mi sembravano dovessero avere in comune la stessa intelligenza, lo stesso cuore, come una sola persona che può avere buoni o cattivi sentimenti, ma da cui non ci si può aspettare ampiezza di vedute, se è di scarsa intelligenza o abnegazione sublime, se è dura di cuore. Madame de Marsant seguiva i corsi di Brunetier. Il faubourg Saint-Germain l'ammirava e lei, con la sua vita da santa, lo elevava. Ma la connessione morfologica del suo bel naso e dello sguardo penetrante mi induceva, tuttavia, a classificarla come appartenente alla stessa famiglia morale e intellettuale di suo fratello, il duca. Non potevo credere che il solo fatto di essere donna, d'essere stata forse sfortunata e da avere dalla sua l'opinione di tutti, la rendesse tanto diversa dai suoi, come succede nella chanson de geste, dove tutte le virtù e le grazie sono concentrate nella sorella di fratelli ribaldi. Mi sembrava che la natura, meno libera di quegli antichi poeti, dovesse servirsi quasi esclusivamente di elementi comuni alla famiglia e non potevo attribuirle un tal potere di innovazione da dar luogo, con materiali analoghi a quelli che formavano uno stupido e un buzzurro, a un grande talento senza alcuna ombra di idiozia, a una santa senza alcuna traccia di brutalità. Madame de Marsant indossava un vestito di seta bianco, con disegni a grandi palme, sul quale spiccavano fiori di stoffa nera. Tre settimane prima, infatti, aveva perso suo cugino, Monsieur de Montmorency, il che non le impediva di andare a fare visite o prendere parti a pranzi, con un numero limitato di persone, sebbene in lutto. Era una gran dama. La sua anima per atavismo era ricolma della frivolezza della vita di corte, con tutto quello che di superficiale e di rigoroso essa comporta. Madame de Marsant non aveva avuto la forza di rimpiangere a lungo suo padre e sua madre, ma per nulla al mondo, nel mese successivo alla morte di un cugino, si sarebbe messa addosso vivaci colori. Fu estremamente gentile con me, perché ero amico di Robert e perché non appartenevo al suo stesso mondo. Quella bontà si accompagnava a una falsa timidezza, che si esprimeva con una specie di abbassamento intermittente della voce, dello sguardo e del pensiero che lei ritraeva verso di sé, come si fa con una gonna troppo ampia per non occupare eccessivo spazio, per restare bene retta, anche nei momenti di rilassamento, come vuole la buona educazione. Buona educazione che, d'altronde, non bisognava prendere troppo alla lettera. Infatti, parecchie di quelle dame si abbandonavano poi spesso a una grande libertà di costumi, senza mai perdere la correttezza quasi infantile delle maniere. Madame de Marsant dava un po' sui nervi durante la conversazione, perché ogni volta che si parlava di un borghese, per esempio di Bergotte o di Il Stier, diceva, spiccando le sillabe, mettendole in risalto e salmodiandole su due toni differenti, secondo una modulazione che era caratteristica dei Germont, «Ho avuto l'onore, il grande onore, di incontrare Bergotte, di fare la conoscenza di Il Stier, un po' per far ammirare la sua umiltà, un po' per lo stesso gusto che aveva Monsieur de Germont di riprendere forme desuete per protestare contro la cattiva educazione odierna, in cui non ci si sente mai abbastanza onorati. Qualunque fosse la vera ragione, in ogni modo si sentiva che, quando Madame de Marsant diceva, «Ho avuto l'onore, il grande onore», essa riteneva di svolgere un ruolo significativo e mostrare che sapeva accogliere i nomi di uomini di valore così come li avrebbe ricevuti di persona nel suo castello se si fossero trovati a passare nei dintorni. D'altra parte, siccome amava molto la sua famiglia che era peraltro numerosa e siccome era lenta nel parlare e aveva un debole per le spiegazioni, voleva chiarire a tutti i legami della sua parentela. Così le capitava, senza alcun desiderio di ostentazione, pur sinceramente amando parlare di contadini dal cuore d'oro e di sublimi guardi a caccia, di citare ogni momento le famiglie più illustri d'Europa, cosa che le persone meno brillanti non le perdonavano e se erano appena un po' intellettuali mettevano in ridicolo quel tratto come indice di stupidità. In campagna, Madame de Marsant era adorata per il bene che faceva, ma soprattutto perché la purezza di una razza in cui da più generazioni non si riscontrava che ciò che c'è di più grande nella storia di Francia aveva cancellato nei suoi modi tutto ciò che la gente del popolo definisce le arie, conferendole una perfetta semplicità. Non esitava ad abbracciare una povera donna sfortunata e la invitava ad andare al castello a farsi dare un carro di legna. Era, dicevano, una perfetta cristiana e ci teneva a far fare un matrimonio straordinariamente ricco a suo figlio. Essere una grandama è come recitare la parte della grandama. Vale a dire, in un certo senso, recitare la semplicità. È un ruolo che costa molto caro, tanto più che la semplicità incanta solo a condizione che gli altri sappiano che potreste benissimo non essere semplici, cioè che siete estremamente ricchi. Mi dissero più tardi, quando raccontai di averla incontrata, vi sarete accorto che è stata bellissima. Ma la vera bellezza è così particolare, così originale, che non la si riconosce come bellezza. Quel giorno mi dissi semplicemente che aveva un naso molto piccolo, degli occhi molto azzurri, il collo lungo e l'aria triste.